ti prendi no vabbè no vai 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 vabbè vai è andata fuori è andata fuori vai vai finita il primo tempo finita il primo tempo finita il primo tempo gol 1 a 0 7 su adesso sono caglie con il primo padrone del secondo tempo giocando dalla giunta adesso devo girare altra parte ecco di qua vai 2 a 0 2 a 0 2 a 0 vai fuori e fuori e fuori e fuori e fuori vai vai 2 a 0 2 a 0 2 a 0 vai buco a mano buco a mano vai 2 a 0 2 a 0 vai mette mette vai vai no vabbè il portiere senza problemi spazza via paolo di vabbè vabbè non andano palla che rotola via da un buon intervento sto giocando contro la juventus ragazzi sto facendo una cosa che non so mai fare ecco di qua vai 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 ehi giuca a seno ah trova ad avanzare di balli vai 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 è andata fuori vai 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 prendi la palla no vabbè dai vai 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 Vai, vai ragazzi, vai, ce la posso fare? Chi dire? Paolo Di Bara, attenzione al CR7, puntuale, quindi, perciò le regole. Di Bara, sale quadrato. No, va bene, ma com'è possibile? Che sfaccismo? La tua posizione però, no, ma com'è, ma che palle? Sono stato a morire per la seconda volta, che sfaccismo però, non ci può fare così, vai, vai però, non ci può fare così, che schifo, che schifo. Ma che schifo! 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 Ci sono metri, per il giocatore della Juve qui! Ma mette bene dentro Cristiano Ronaldo. Buono l'anticipo della difensione! Vai l'ho parata, vai, vai, vai l'osso, vai, parata, 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 vai, vai, sei parata, guarda, parata, no va bene, che schifo, alto calcio di là, laterale, vai, vai, grandi pallone che ho fatto da la scosta Cristiano un po' più a Cristiano vai che imparata ma ecco della Pino Luto fuori gioco fuori gioco ragazzi porco Dio porco Dio Paolo Divana Divana a me che la ripesa fuori gioco di nuovo fuori gioco fuori gioco di nuovo fuori gioco di nuovo dai me lo vedi vai e andrà fuori vai vai dai me lo vedi tocca per il compagno io vi faccio fuori tutti porco Dio porco Dio vai vai ragazzi vai questa cosa è impossibile vai ragazzi sei a pazzo no va bene è arrivato in Napoli dai viva fuori gioco fuori gioco vai chi è lì Alessandro Edric io andrei davanti a passare a porto a capo per sapere a chi sto vai alla fine cinque minuti piena palla in una scosta Alessandro il topo dentro cross che si tette allontano il pericolo sono da pensare di conquista il valore no vabbè vabbè scusate Cristiano Ronaldo e c'è la conclusione ha provato a fare il match conclusione no vabbè ma che spazzito che spazzito e che cazzo mi ha detto la terza volta e che spazzito che spazzito mette in sanghi e ha morito porca puttana parlo anch'io vai 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 dai che ne sto rimani devo cercare devi impedire vai vai vabbè vabbè vai cazzarola vai e 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 vai vai e vai e vai e vai e vai e vai vai e vai e vai e vai e vai e vai e vai KAMPIONE, E VAI, VAI, VAI